Farà Occhi di fuoco Raguna in cielo La vita inizierà Farà Magia e le alzà Contra il male Più forte sarà Farà Sogno e realità L'opera esisce Paura Domani in prigine Farà Il destino implacabile Si sta compiendo Come un raggio di luce L'uomo il mondo salverà Farà Difficile Farà Difficile Farà Embrose Ah, bambà, ho la più piccola! Appista, la fiume è niente per te! Ma che sei che sono qui qui è proprio la stessa! Sì, nel Sìdnei! Sì, nel Australia! Non è il nostro buono? O, ti, non siamo buono! Non siamo in Italia! Non siamo in Italia! Lo importante è che siamo in Australia! È l'alizante che sono le miei peccati con il cacolo? Non, bambà, è una cosa che è un'amplice, come tutti! Ma, non mi sembra che si sono in Italia! Ma, bambà, non hai ascoltato il tuo planeto? Sì, è vero, è vero, è vero. Sto l'oxodo, il pò che ci siamo. Cosa è un po' più amici, è un po' più amici. Sì, è stato un po' di più affidato, è stato un po' di più affidato, è stato un po' di più affidato. Zieti sei da me vedi? Il Faraant è una paura che si chiama l'Australia! Un bel mese lo conosco! Le ho avuto 3.000 petrolopeggiati! Avviseci! 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 E? Yang i qu Y futuro SS. Y E Y lo Ci sono una ocellona! Città, qui c'è una ocellona! E' un po' anche questo! Oui, aga rai, amici! Oh, qua! È molto bella! È molto bella! È molto bella! È molto bella! Oh, ciao! Cosa è un computer? È un computer! Oh! 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 Ah, è una scatastrofe! Ma può essere capace? Ho alcune delle affibilii. Se non è arrivato... Non ho mai senti! Ah! 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 E' un' drosistico oro ma eucaliptu! Nè! Alla' cacan ebbiidu! I' ecdromì ma sto parco ton goalla tèlìuose tòra, Tilda! Ah! 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 Anipo mese, o mese príncipe, tòa invece di svegliere il cibo. E' proprio perchè per oggi siamo in giù e siamo in una nave,iad ho un svegliere. Ah, non mi tu verrai, non fosse perché questa settimana, non è inizia anche solo nella sua piazza, ma è un'esercizio. E' questo qui per noi è una overe... e' un poore, è una cosa che si è una... e' un poore. Il suo grande, ma è davvero il mare. Grazie, Glucco. Ciao! Ecco qui, ci sono delle catture. Potete farciare il nello da questi. È un paese. Sì, vedete come vi ho detto, non è l'aeremmo? Sì, almeno il nero è buono e non sembrava che non è arrivata una cattività. Oh, io ho dovuto andare a fare il tempo. La dinamica è quasi al maximo! Othana, non è successo! Cioè chi non è così che tiado avuto? Sì, è così che è venuto per una strada per una strada di progetto! O, che non è, non mi piace mai! Non ho altro nero! O che c'è io! E ora? Sì, lascia che io lo faccio! Non è necessario di rispondere, è un'alli è un'aggo, si avrà nello nel senso, non ha avuto il tempo. Sì, non ho ancora visto il tempo, non ho ancora visto il tempo. Non è un'allace che non ha spesso un'ascizio di un'ascizio di nero su tutto il pianeta. Cosa mi dice che il mio è un'alli non vede nero ora. Ma, a continuare. Oh! Oduko che così? Oух! Oddio! 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 Ecco! E' proprio stato un nero qui. Ah, magari non lo capisci. Chiamociare un nero. Chiamociare un nero. Oh, c'è qui. C'è un nero? E' ringio. Oh, c'è qui. Il nero è più vicino, è così? C'è molto vicino. E' così non è? Ti chiedeci, mi chiedeci? Ho vedo. Non è? Sì, sì, sì. Grazie a tutti! 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 Sì, è stata una prima grande, questo è tutto per tutte le scuole che mi metà peino. Sì, abbiamo cambiato la scuola, abbiamo cambiato la scuola. È ancora più forte. Ma è possibile, è un volantino più vicino. E' quello che era il scuola, ha fatto una scuola di scuola. E' stato il scuola di scuola. E' stato il scuola di scuola di scuola. E' stato il scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. E' stato un' sottotitolo di scuola 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 di è una via stis Farad ha avuto l'acquieto, cunisù lupon è molto maggiore oh ma ti sa mo thiello sembra che faccio l'imperorio svegliere o riusci a to magico da chiusi cunisù 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Σε παρακαλώ Τίλτα, άσα με μόνο. Ο θρήνος σου είναι σαν ένα τραγούδι αγάπης νεάρα μου. Θέλω να μείνω μόνος αν δεν σας πειράζει. Ήρθε στη χώρα των προγόνων μου για να βρεις το θαυμαστό φως, έτσι δεν είναι. Μιλάς στη γλώσσα μου. Εμένα με λένε τα Μπάτζη και εσύ είσαι ο Φάρατ. Με ξέρεις. Ήρθε στη χώρα αυτή για να βρεις το θαυμαστό φως. Ναι, αν έτσι ονομάζεται το Σάριμαν, αλλά δυστυχώς απέτυχα. Λοιπόν, άρε πρίγκιπα, είδες το θαυμαστό φως. Τι θέλεις να πεις τα Μπάτζη. Ενώ ο ήλιος πήγαινε στο σπίτι του στο δυτικό ουρανό, είδες το φως του Σάριμαν. Εννοείς αν είδα το φως των μαγικών κρυστάλλων να λάμπει. Μα δεν ήταν σαν τις άλλες φορές. Ο ήλιος μετύφλωσε και μετά ξαφνικά όλα σκοτίνιασαν. Αυτό έγινε επειδή δεν είχε έρθει η ώρα ακόμα για το θαυμαστό φως να μας δώσει το θαύμα του. Στη γη των προγόνων μου, το θαυμαστό φως ακολουθεί μόνο το μονοπάτι των ονείρων. Θέλεις να πεις πως υπάρχει ελπίδα? Όχι ερωτήσεις Βάρατ, μόνο απαντήσεις, νιώθεις πως είσαι έτοιμος. Θα με βοηθήσεις? Ναι, θα σε βοηθήσω. Τότε είμαι έτοιμος, οδήγησέ με στο θαυμαστό φως τα Μπάτζη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE